Io sempre con gli occhiali, perché quando... No, aspettate, perché ci sono i secondi rossi? Ho finito la memoria Ve lo senti? Ok, a parte che non vedo nulla, cioè io vedo praticamente qualcosa di verde La mia faccia praticamente... Dio, la vita Ok, va bene Ma guarda, non ci credo Guarda, mi sta succedendo di tutto, sto cercando di registrare un video Prima non avevo la memoria, adesso la batteria scarica E mi chiami tu, un casino Tranquilla, non ce l'ho con te Ciao a tutti e a tutti Allora, oggi sono tornato con questo nuovo video Che come avrete detto dal titolo È un video in cui... Non riesco mai a fare le intro fatte bene Cioè nel senso, io ogni volta le dico come avrete detto dal titolo Ma in realtà non so mai che titolo metto Cioè, capito cosa intendo È difficile, quindi devo capire già adesso Nel momento in cui lo dico devo già pensare al titolo Quindi penso al titolo, quello che devo dire E vado in confusione A parte questo, dicevo appunto che sono tornato con questo nuovo video E appunto è una compilation dei miei video comedy Tra virgolette Perché non sono musicali ma sono proprio dei veri e propri video Tipo stile Vine Chi si ricorda Vine? Che bei tempi che erano E sono appunto dei video divertenti Almeno spero che siano divertenti Dove racconto delle cose che succedono un po' tutti quanti In maniera divertente Un po' come, diciamo, i tipi di noi O i video con le scenette qua su YouTube Ma che posto poi su Instagram E se non mi seguite su Instagram Andatemi a seguire Cioè, cosa siete qua? Non mi seguite? Cioè, ma... Ehi, non va bene? E niente, quindi io direi di non perderci in chiacchiere E di iniziare subito con questa compilation E spero vi piaccia Io ci ho provato E... niente Buona visione 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 se 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 No, non facciamo la pasta Scusate La fa lontano, non ci credo La fa lontano 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 La fa lontano